Aspetto. Forma generale. Un cane da caccia energico e forte. Densamente e proporzionalmente piegato, circa delle stesse dimensioni dal garese al suolo, e dal garese alla base della coda. Dimensioni. Peso 12,7-14,5 kg, altezza al garese di circa 39,4-40,6 cm per i maschi e 38,1-39,4 cm per le femmine. Capo. Il muso è chiaramente rettangolare con una transizione pronunciata dalla fronte al muso. La lunghezza del muso e del cranio è approssimativamente uguale. Il cranio è ben sviluppato, ben delineato, non troppo leggero, ma nemmeno pesante. Gli zigomi non sono prominenti. Il naso è nero, e abbastanza largo da fornire un senso di potenza. Gli occhi sono grandi, ma non sporgenti, di colore marrone o marrone scuro. I bordi delle palpebre si adattano perfettamente. Le orecchie sono a chiazze, attaccate basse, con la base all'altezza degli occhi, sottili, lunghe fino al tartufo, abbondantemente raccolto con capelli lunghi, lisci e setosi. Morso a forbice. Coda. Attaccato leggermente al di sotto della linea del dorso, agile, portato all'altezza del dorso, e mai sollevato verticalmente. Ormeggiato non troppo lungo, ma non troppo corto. Lana. Il pelo è diritto e setoso, non ruvido, con pelo sufficiente, non troppo abbondante o riccio. Colore. Varie. In tinta unita, non sono ammesse macchie bianche, ad eccezione di una macchia sul petto. Tratti distintivi del carattere. Mentre lavorava con la razza, poiché gli spanieli iniziavano a variare di peso, lo springer spaniel inglese era un tipo più pesante, con un peso di oltre 25 libre. Il suo stesso nome suggerisce che spaventa e solleva il gioco. Ha le stesse qualità di caccia del cocker. Ma la sua crescita più ampia e la sua corporatura massiccia predeterminano il suo uso nella caccia. A differenza di un cocker, è in grado di portare una grande lepre o una volpe tra i denti. Solo negli ultimi anni c'è stato un interesse tra i forestali che cacciano in quei luoghi dove non è necessaria la posizione del cane. Lo springer spaniel inglese differisce dal cocker sia per la statura più alta, per le orecchie più alte e più corte, sia per il fatto che non è mai di colore uniforme. L'inglese Springer spaniel inglese è la più antica di tutte le razze di cani da caccia inglesi. Tutte le altre razze English port spaniel sono state allevate da esso, ad eccezione del clumber spaniel. Originariamente era utilizzato per tracciare e alimentare la selvaggina in rete per la falconeria. Attualmente viene utilizzato esclusivamente come cane da caccia per cercare selvaggina, ricercare animali feriti e portare selvaggina a un cacciatore. Il tipico spaniel è amichevole, desideroso di compiacere, impara rapidamente ed è disposto a obbedire. Nelle giuste circostanze, può essere un cane di famiglia affettuoso e calmo. La vigilanza e l'attenzione lo rendono un buon compagno di caccia. Il tipico Springer spaniel inglese sceglierà spesso una persona della famiglia a cui sarà più fedele e si attaccherà a quella persona il più possibile, sono spesso indicati come velcro dog. L'inglese Springer spaniel inglese è classificato tredicesimo in The Intelligence of Doss di Stanley Corrine, ed è considerato un eccellente cane da lavoro. Ha una resistenza eccezionale e richiede una quantità moderata di attività per concentrare la sua mente. La sua corporatura con le gambe lunghe lo rende uno dei tipi di spaniel più veloci. Questa è una razza estroversa che ama la compagnia dei bambini, e fa bene con la compagnia di altri animali domestici. Tuttavia, una razza da caccia, potrebbe non andare d'accordo con i gatti. Se lasciati soli per troppo tempo, possono diventare distruttivi e dispettosi a causa della noia. Lo Springer spaniel inglese è usato come cane da fiuto. Cani da ricerca degni di nota includevano booster, la medaglia de Akin, il cane da recupero di armi ed esplosivi della Royal Army che prestava servizio nel reggimento del Duca di Wellington in Iraq per individuare l'arsenale nascosto di armi ed esplosivi del gruppo estremista. Un altro esempio è Giacke, noto anche come dispensario popolare per animali malati. Ublekek, medaglia d'oro e medaglia Blue Cross Animal Hospital, cane da ricerca di esplosivi della Polizia Metropolitana di Londra. Era a distanza a Tavistock Square, Roussel Square e Kings Cross dopo gli attentati di Londra del 7 luglio 2005. Lo Springer spaniel inglese è utilizzato anche come cane da ricerca e soccorso dalle squadre di soccorso di montagna e di pianura, dove la loro disponibilità a lavorare e ad affrontare terreni accidentati lo rende una scelta eccellente. La razza di cani da caccia, allevata per la caccia dalla penna, tradotta dall'inglese Springer, gioco spaventoso. Questi cani affettuosi, leali, comprensivi e obbedienti sono anche ottimi compagni. Va tenuto presente che, una volta in un appartamento, uno Springer è ugualmente attaccato a tutti i membri della famiglia, considera tutti come il proprietario, e questo spesso influisce negativamente sul sistema nervoso del cane. Punti salienti e fatti interessanti. Nel 1902, il che nel Club of England riconobbe lo Springer spaniel inglese come razza separata. Nel 1924 fu costituita la English Springer spaniel Fiel Test Association, che fece conoscere meglio la razza. La KC Association Standard Forte English Springer spaniel, formato nel 1927 e rivisto nel 1932, è stato progettato per masimizzare lo sviluppo delle capacità naturali dello Springer promuovendo l'uniformità nella razza. Nel 1881 fu fondato l'American Spaniel Club. Il nome Springer spaniel includeva in una classificazione gli antenati da cui discendono molti dei nostri moderni spaniel. I colori accettabili nella razza, sono nero o fegato con bianco, blu o fegato roano, oltre altri colore. Limone, rosso e arancione sono considerati inaccettabili, e non devono essere posizionati secondo lo standard inglese Springer spaniel. Storia della razza. La descrizione dello Springer spaniel, cioè un cane che spaventa la selvaggina in agguato nell'erba o nei cespugli, è datata fin dal XVI secolo. Discendeva dal Norfolk spaniel, un cane più grande e massiccio, simile a un piccolo setter. Il Norfolk sembra essersi evoluto dall'incrocio dell'Old English water spaniel con il sussexo altri spaniel, forse a loro è stato aggiunto il sangue di un terrier nero focato. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, i cacciatori, amanti degli spaniel, continuarono a migliorare le qualità esterne e di caccia del Norfolk. Quando gli spaniel di Prato grandi e piccoli cominciarono a differire nello stile di caccia, i cani di piccola taglia usati per cacciare le beccacce furono chiamati cocker spaniel, quelli grandi hanno guadagnato la loro fama come springer spaniel. Nel 1902, il che nel Club del Legno Unito riconobbe ufficialmente lo springer come razza indipendente e approvò il nome English springer spaniel inglese. Nella prima metà del XX secolo, in Gran Bretagna è stata prestata grande attenzione al miglioramento dell'aspetto esteriore di questo spaniel, ma anche alle sue qualità venatorie. Gli springer spaniel hanno costantemente preso parte a prove e competizioni di cani da caccia, e spesso hanno preso i primi posti in essi. Oggi la razza è effettivamente divisa nel Regno Unito in due varietà, ognuna delle quali è progettata per un tipo speciale di competizioni, i cui requisiti sono in costante aumento. Alcuni rappresentanti della razza partecipano a spettacoli, altri a gare sul campo. I cani da esposizione, hanno un aspetto molto efficace, ma non mostrano risultati adeguati nei test. I cani da lavoro, vengono allevati indipendentemente dai criteri estetici. Lo springer spaniel inglese è popolare come cane da esposizione, e da caccia in Europa occidentale e negli Stati Uniti. Manutenzione e cura. Dai da mangiare al tuo spaniel con cibo per cani di alta qualità adatto all'età, e al livello di attività del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. La spazzolatura settimanale aiuterà a rimuovere lo sporco e i peli sciolti e a mantenere il pelo sano, lucido e libero. Eventuali capelli aggrovigliati possono essere sciolti con una spazzola da stiro o un pettine. Lo spaniel può essere pareggiato dal proprietario o dato a un toilettatore professionista per tagliare e pulire il mantello, in particolare i piedi, intorno alla testa, e al collo e sotto la coda. Come per tutte le razze, le unghie devono essere tagliate regolarmente, poiché le unghie troppo lunghe possono ferire il cane e causare problemi quando si cammina e si corre. Sebbene gli springer spaniel inglesi vivano meglio al chiuso con la loro famiglia umana, amano le attività all'aperto, e sono ottimi compagni di lunghe passeggiate o escursioni. Con il giusto esercizio, la razza può essere adatta a proprietari che vivono in una piccola casa o appartamento, anche se probabilmente l'ideale è una casa con un ampio cortile recintato dove il cane può correre o giocare con i suoi proprietari. L'esercizio quotidiano lo aiuterà a mantenerlo sano e felice. Potrebbe essere una lunga passeggiata o un gioco. La razza allena anche la mente e il corpo impegnandosi in obbedienza, monitoraggio, agilità, rally e altre attività che il cane e il proprietario possono godere. La socializzazione precoce e le lezioni di addestramento dei cuccioli sono importanti e aiutano a rendere lo springer spaniel un compagno beneducato. Le primavere sono vive e molto intelligenti, quindi è vitale un allenamento costante e una guida gentile. Il proprietario deve essere sicuro di avere il controllo della situazione in ogni momento, perché lo springer è un esploratore attivo e lungimirante dei suoi dintorni e del territorio locale. Salute. Lo springer spaniel inglese-inglese ha una vita media di 12 al 15 anni. Come con la maggior parte delle razze, è più probabile che si verifichino alcuni problemi di salute. La displasia dell'anca e la trofia progressiva della retina, degenerazione della retina che causa la perdita della vista che porta alla cecità, sono due di queste condizioni. Come la maggior parte degli spaniel e dei cani dalle orecchie flosce, sono soggetti a infezioni all'orecchio. Esistono diversi tipi di infezioni comuni, e il trattamento di solito, include antibiotici orali e pulizia quotidiana del condotto uditivo con un solvente, che lascia anche l'orecchio in uno stato acido, rallentando la crescita dei batteri. Altri problemi di salute, includono le malattie autoimmuni. Tra gli springer spaniel inglesi, c'è un comune con l'uomo una rara malattia ereditaria autosomica recessiva dal gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale, la fucosidosi. Possono anche essere inclini a una varietà di problemi alla vista, tra cui arricciare le ciglia verso l'interno o verso l'esterno, o anche una fila estra di ciglia, che possono richiedere un intervento chirurgico correttivo. Gli springer spaniel inglesi tendono ad ingrassare facilmente, e i proprietari devono fare attenzione durante l'alimentazione. Un sano springer spaniel inglese dovrebbe consumare circa 1353 calorie al giorno. Prezzo e come acquistare correttamente. Prima di acquistare un animale domestico, devi familiarizzare attentamente con la razza proposta per non acquistare qualcosa di estraneo. I cuccioli di springer spaniel inglese sono disponibili in club e siti web speciali. Puoi scegliere la razza in base al feedback sul cane. Devi stare attento nel mercato, lì puoi comprare la razza sbagliata di cui hai bisogno. Per l'acquisto di un cucciolo, dovresti mettere da parte tra 600 dollari e fino a 10.000 dollari o più per uno springer spaniel inglese con le migliori linee di razza, e un'eccellente pedigree. Il costo medio degli springer spaniel inglesi venduti è di 800 dollari. Linea di fondo. Per un periodo di tempo molto lungo, gli spaniel sono stati considerati un'unica razza di cani che non aveva sottoclassi, infatti, la divisione è avvenuta non molto tempo fa, ma sono apparse molte varietà diverse di questi cani. Ad esempio, nel XIX gradi secolo, è stato scoperto che la razza di cani, conosciuta come English springer spaniel inglese, è una delle più antiche. Questa razza ha origine dai Norfolk, che erano per molti versi simili ai moderni springer spaniel, ma c'erano anche differenze molto significative, come ad esempio, erano molto diverse per dimensioni.